Allora, salve a tutti, oggi recenserò una Roma, marca Angolo della Guancia, va bene, che si intitola Frio, abbiamo un Latachia orientale Virginia, anzi no, me lo dite voi, vediamo se siete attenti, che tipo di mistura si compone dell'Atachia orientale Virginia, e allora, Frio, vedete, Angolo della Guancia, va bene, Frio, Latachia orientale Virginia e lamenta, ovviamente, scusate Whatsapp, Frio in, che specchio è castigliano, vuol dire freddo, freddo perché c'è la menta, Ma freddo in che senso? Cioè, io appena ho letto l'Atachia orientale Virginia, una mixture, che poi sapete qual è, e menta, ho detto, mmm, sto marchio Angolo della Guancia mi ha deluso ben poche volte, ben poche volte, molti altri prodotti, la maggior parte dei prodotti Angolo della Guancia, non dico che li ho finiti quasi subito, perché io non svapo tantissimo, ok, e svapo sempre cose diverse, tranne due, tre cose che svapo, diciamo, costantemente, in sintesi, il mio aroma, una specie di aroma da polmone, svapo ogni tanto, e poi un Ry4 di Supreme che svapo sempre, diciamo, tranne questi, ah, è il Bums del TNT, quello nero, il riservo, tranne questi, poi io ogni giorno svapo una cosa diversa, mi piace fare così, è il bello del rigenerabile, d'altra parte, dicevo, quest'angolo della Guancia, e ci sono stati pochi aromi che non mi hanno convinto granché, questo ferio, prima di assaggiarlo io ho detto, mmm, mi sa che viene fuori una, magari un aroma che a me non piace, non voglio dire che fa cagare, una minchiata, o cose del genere, perché poi, alla fine, aromi sono, è questione dei gusti, no? Poi ci sono cose che ti fanno cagare, eh, perché non lo devi dire? Ehm, o cose che magari qualitativamente sono fatte coi piedi, allora magari in quel caso si fanno cagare, non ti fanno cagare, Però, c'è gente che apprezza pure le cose fatte coi piedi, eh, attenzione, quindi, è sempre, sempre molto relativo. E invece no. Invece no, non che non sia relativo, invece no che non fa cagare questo frio. Tutt'altro. Sto svapando su questo X-Pro V4. Scusate, Whatsapp. Perché, diciamo che ci sono andato un po' a culo, non sapevo bene a dove metterlo. Carusi, basta. Un attimo che stacco le notifiche. Aspetta un minuto, eh. Si può fare. Ecco, ho staccato le notifiche. Sennò era tutto uno scusato Whatsapp. Ehm... Dicevo, l'ho messo su questo atomizzatore. Tentando di andare a culo. E vedere se... Se riusciva bene in questo atomizzatore. Se fosse riuscito bene in questo atomizzatore. Ed effettivamente riesce molto, ma molto bene. Ma... Più che l'atomizzatore è la roba. Allora, questa mixture che voi scriverete nei commenti qual è, ricordiamo, Virginia, Latachia e Orientale, mi aspettavo di trovarla occupata, come si dice dalle mie parti, soffocata dalla presenza in commente della menta. Ho detto, ora, si sentirà la menta e poi il resto, ciao. Neanche per idea. C'è un accenno di menta. E non è menta fresca, fredda, diciamo così. Certo non è un aroma ice, per carità. Ma non è neanche una menta fredda, chiamiamola così. O al gusto, che dà una sensazione di freddo. E non è neanche una menta aggressiva. È un'aromatizzazione leggera, tranquilla, che non va assolutamente a rompere i coglioni alla mixture. Che la senti? Infatti è difficile smettere di svapare sto frio per me, perché è veramente, veramente fatto bene. Gli ingredienti sono veramente dosati bene, 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 bene. Non dicessi una cosa diversa, direi una menzogna. Poi è svapato così, piano piano, nel senso, ho fatto, spero che si possa leggere, una 1,34 ohm. La sto spingendo a 10 watt. La cosa proprio tranquilla. Basta, non mi sento di dire altro, perché mi sento di consigliarvelo. Però, ognuno ha i suoi gusti e c'è chi la menta non la sopporta. E quindi, coloro non sopportaste la menta, cioè, in teoria sarebbe anche per coloro i quali non sopportano la menta, perché quasi non la senti, capito? C'è il sapore, ma non è un sapore predominante di menta, non è una cosa... Cioè, un mischione del cacchio, tabacco e menta. No. È un... È una mistura ragionata. È una mistura ragionata. E non mi fate incazzare. Ciao, ne.